Nuovo avvio della richiesta di supporto economico attraverso i buoni spesa nel comune di Castellabate. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri ha riattivato infatti la distribuzione dei ticket al fine di assegnare un beneficio occasionale ai nuclei familiari in situazioni di indisponibilità economica. Stavolta si presenterà una particolare attenzione alle attività commerciali che hanno dovuto subire la sospensione nel periodo di dicembre a metà gennaio per effetto delle ordinanze sindacali emanate e per il contenimento del contagio da covid-19 sul territorio. Il bando è aperto a tutti con un diritto di precedenza riservato a quei nuclei non seguiti dai servizi sociali che non siano già risultati assegnatari nelle misure precedenti a causa ad esempio di mancata partecipazione o di errori nella compilazione della domanda. Si tratta di buoni utilizzabili esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni primari stanziati ai sensi del decreto legge 154 del 23 novembre 2020. Può fare richiesta per accedere alla misura un componente per nucleo familiare che abbia come requisito quello di essere residente nel comune di Castellabate e in caso di cittadinanza straniera in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. L'importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare da 100 euro per un unico componente e a salire fino a un massimo di 300 euro per cinque o più componenti. Per fare richiesta dei buoni spesa bisognerà compilare l'autocertificazione in ogni sua parte utilizzando il modello predisposto dall'ente e disponibile sul sito istituzionale del comune o ritirabile presso l'ufficio politiche sociali del comune di Castellabate, sito in via Roma, Santa Maria. La domanda corredata di documento di riconoscimento in corso di validità dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 19 febbraio 2021 tramite PEC all'indirizzo comune.castellabate.it oppure email all'indirizzo buonicovid.castellabate.sa.it in via residuale a mano presso l'ufficio politiche sociali previo appuntamento al numero 0974 96 01 47 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Al fine della formulazione di una graduatoria gli elementi acquisiti verranno utilizzati per valutare la missione al buono spesa seguendo precisi criteri legati allo stato di fragilità di occupazione reddituale patrimoniale abitativo e familiare. La missione al beneficio comporta l'erogazione dei buoni spesa in formato digitale attraverso un PIN che verrà inviato tramite sms sul numero di telefono del beneficiario che abbinato alla tessera sanitaria costituisce lo strumento di identificazione per gli acquisti presso gli esercizi convenzionati. L'assessore alle politiche sociali Elisabetta Martuscelli ha dichiarato intendiamo anche stavolta dare una risposta tangibile e tendere una mano alle famiglie e a quei lavoratori e titolari di partita IVA costretti alla chiusura nel periodo di fermo delle attività. Il virus sta incidendo negativamente sull'economia locale e non solo. Dobbiamo quindi essere sempre pronti ad attivare tutti gli strumenti di sostegno messi a disposizione per i cittadini.